Stacco della macchina con Riva LB che cerca la difesa della posizione interna dalla presenza esterna i Rachmaninov-Bigi a contatto Renato. Esiste Rachmaninov-Bigi lungo l'arco della prima curva, si ritrae terzo alle spalle Renato, davanti c'è Riva LB. Meno i 14 il lancio sollecito, davanti alle tribune Riva LB battistrada nei confronti di Renato e Rachmaninov-Bigi. Poi Remio a precedere la coppia composta da Ragazzo dei Sogni e Rosor alla retroguardia sono Rodney, Norfro e Rublo del Ronco appaiati. 29,9 i 400 metri iniziali per Riva LB al comando, diminuito sensibilmente l'andatura all'altezza del paletto dei 600, l'errore a parte di Rosor 46,5 i 600 metri iniziali a parte della battistrada. Numero 3, Rosor squalificato. La squalifica coglie Rosor. Si va di fronte, lo schema ormai quello, due pariglie anche se sono cambiati i nomi degli attori, davanti a scadire il tempo sempre Riva LB. 1,2 abbondante, 800 metri iniziali con in vantaggio Riva LB nei confronti di Renato. Si affaccia sui primi, Rublo del Ronco, 18 e spicci il chilometro iniziale a parte della leader che continua a comandare a poco più di un giro dalla conclusione. Alle sue spalle sempre Renato lungo Birilli e Rublo del Ronco a largo. Viene scuffiato Rodney, Norfro per cercare di andare dietro ai migliori. Rachmaninov Vigi lì ha postato avanti a Remio, alla retroguardia, è il ragazzo dei sogni che accenna a venire a largo. Si va a 6,50 al termine, Riva LB l'ha fatta tranquilla nella prima parte di gara. Eccetto i primi 150 metri per rientrare, Rachmaninov Vigi si mantiene in evidenza a metà della dritta di fronte. Una lunghezza e mezza meglio di Renato e Rublo del Ronco. Poi Rachmaninov Vigi in cerca di aria per respirare problemi per Rublo del Ronco che finisce col galoppare. Al completamento del miglio passato dalla terza. Numero 6, Rublo del Ronco squalificato. Le sue mosse seguite a distanza a Rachmaninov Vigi. E' produttivo Renato che ha preso chiaro margine di vantaggio all'ingresso alla dritta arrivo. Se n'è andato dalla compagnia, lascia Rachmaninov a piegarsi un po' in giù su Riva LB ma averne ragione. Renato facile nel tratto conclusivo viene a vincere con un parziale solo. Secondo è Rachmaninov Vigi. Al terzo è buono per la prossima è Remio che corre decisamente in prospettiva su una ancora deludente sulla distanza. Riva LB. Il successo di Renato, René Legati, Olga Rellert, l'allenatore. I colori della scuderia Indal per il figlio di self-possessed e della indimenticata Ele Code. 16,8 la media al chilometro 2000 metri. Il successo di Renato, Renato, GTA, l'allenatore.